I 196 anni dalla fondazione dell'arma saranno festeggiati domani anche dal comando provinciale di Macerata. La cerimonia si terrà a partire dalle 10 del mattino all'interno della caserma del capoluogo. Nel corso della cerimonia verranno anche premiati militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio e come da tradizione la festa dell'arma è anche l'occasione di riflessione e confronto sui risultati conseguiti nell'arco del 2009. Circa 8.500 i reati perseguiti in provincia di Macerata, pari all'80,45% del totale, con un calo del 5,27% rispetto al 2008. L'attività di contrasto alla criminalità ha permesso di assicurare alla giustizia poco più di 2.500 persone, di cui solo 262 sono in stato di arresto. Quanto ai reati, 45 le rapine accertate, delle quali solo 6 ai danni di istituti di credito e uffici postali. 20 le estorsioni, di cui 15 sono venute alla luce. Quanto ai furti, ne sono stati accertati circa 3.700, di cui 143 venuti allo scoperto. Sul totale dei furti, 277 hanno riguardato esercizi commerciali, 267 in abitazione e 509 hanno riguardato autoveicoli. Capitolo droga, 213 reati in materia di stupefacenti con contestuale sequestro di circa 11 chili di droga, 4,3 di cocaina, 1,28 di eroina e 2,59 di hashish e marijuana. Nell'ultimo anno, ufficiali e sottofficiali del comando provinciale hanno poi tenuto più di 30 conferenze presso scuole medie inferiori e superiori, alle quali hanno partecipato circa 3.000 studenti, allo scopo di educare i giovani alla legalità e di incrementare la loro fiducia nelle istituzioni. Altri studenti hanno poi fatto visita alla caserma dell'arma. È proseguito anche nel 2009 il progetto di aiuto alle vittime di reato e la collaborazione al Centro Antiviolenza SOS Donna per il contrasto allo stalking e ad ogni forma di violenza in ambito familiare.